L'istituzione sinfonica abruzzese per la sua 44esima stagione dei concerti ospiterà sabato 23 febbraio alle 18 al ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila l'Oper Piano Trio, formazione composta dal violinista Federico Piccotti, dal violoncellista Gianluca Montaruli e dal pianista Alberto Dalgo, tre promettenti musicisti poco più che ventenni provenienti dalle migliori scuole europee che dopo aver singolarmente calcato alcuni fra i più celebri palcoscenici della musica classica hanno unito i propri talenti dalla primavera del 2018 riscuotendo grande accoglienza e interesse in occasione delle loro esibizioni il pubblico aquilano avrà la possibilità di ascoltare alcune delle pagine più belle del repertorio cameristico per violino, violoncello e pianoforte contemporaneamente l'orchestra sinfonica abruzzese sarà a Roma dove in questi giorni è impegnata nelle varie fasi della seconda edizione del concorso internazionale di tromba a Fantini organizzato dai Marta, Accademia internazionale di musica e arte di Roma nato da un'idea di Edda Silvestri direttore di i Marta e già direttore del conservatorio Santa Cecilia di Roma e Giuliano Sommarder prima tromba della Rotterdam Philharmonic il concorso si svolge presso la bellissima sala accademica del pontificio istituto di musica sacra e si inserisce per prestigio premio e struttura nella gamma più alta di concorsi di musica classica rappresentando un'opportunità di crescita e sviluppo per la generazione dei musicisti classici Under 35 siamo onorati di partecipare a questo concorso ha detto il direttore artistico dell'ISA il maestro Ettore Pellegrino l'ISA da sempre è a disposizione dei giovani talenti e conferma di essere un punto di riferimento del centro Italia per tutte le attività formative e imporla a regla e imporla all'area